Nissan e Seabeg, imbottigliatore dei prodotti di The Coca-Cola Company per il mercato siciliano, accelerano la mobilità sostenibile in Sicilia con un accordo che prevede la realizzazione di un ecosistema elettrico nella regione Sicilia composto da veicoli e infrastrutture. Prende così il via la seconda fase del Green Mobility Project con 110 nuove Nissan Leaf che saranno utilizzati dai Sales Executive di Seabeg e otto nuove colonnine di ricarica rapida. Per Nissan la realizzazione dell'ecosistema si inserisce nell'ambito della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica aziendale che si propone di ridefinire il modo in cui le auto sono guidate, alimentate e integrate nella società per uno stile di vita più sostenibile. Al fine di assicurare la mobilità della propria flotta, Seabeg ha sottoscritto un accordo con ALD Automotive che, attraverso la formula EGU, noleggio a lungo termine, offre tutti i servizi e la gestione amministrativa delle auto. Attraverso la partnership strategica con Enel X, la multinazionale leader nel noleggio a lungo termine, offre soluzioni di mobilità integrata per la diffusione di una nuova mobilità senza pensieri e libera dalle emissioni. La collaborazione con Nissan permette inoltre di ampliare la rete di infrastrutture di Seabeg su tutta l'isola, portandola così a 68 colonnine. Le nuove 8 postazioni di ricarica rapida, che consentono un rifornimento da 0 all'80% in 40-60 minuti, si aggiungono alle 60 di cui 7 a ricarica veloce già installate da Seabeg in partnership con Enel, dando così nuovo slancio alla e-mobility non solo aziendale ma anche locale. Grazie all'impegno di Seabeg, infatti, tutti i siciliani e non solo i dipendenti dell'azienda possono utilizzare le colonnine di ricarica che dal momento della loro installazione hanno totalizzato oltre 14.000 ricariche.